Questo lungo viaggio che è stata la campagna elettorale sta per concludersi. Un viaggio in cui abbiamo girato per il paese e abbiamo incontrato tante persone. Un viaggio in cui abbiamo studiato e abbiamo scoperto tante cose che ignoravamo o che non conoscevamo nella loro interezza. Questo è stato un viaggio anche dentro noi stessi. Abbiamo scoperto una caparbietà che probabilmente non sapevamo di avere e soprattutto abbiamo scoperto una bulimia di verità. Scoprendo le verità infatti ci siamo sentiti come monaci che nel romanzo Il nome della rosa diventano vittime della loro voglia di conoscenza perché più vanno avanti nella lettura del libro proibito più avvelerano se stessi. Il libro proibito che noi familicamente abbiamo divorato è il libro delle verità, vergogne di San Pietro, che qualche monaco vorrebbe nascondere per impedirne la lettura, per impedire che la verità si sappia e che si dica finalmente il re è nudo. Conoscere la verità ci ha messo di fronte ad un bivio. Dovevamo tacere o dovevamo dirla questa verità, dirla con tutti i rischi che ne possono conseguire. E pensando alle parole di Aldo Moro che disse, quando ci dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante, ci aiuta a essere coraggiosi. Ed ecco, noi nella verità abbiamo trovato il coraggio di parlare e di denunciare. abbiamo deciso infatti di non volgere lo sguardo dall'altra parte. E il nostro treno è partito. Durante questo viaggio tante persone hanno provato a salire sul nostro treno, ma qui non hanno trovato spazio. Perché da noi non si entra per fare carriera o per far proliferare le clientele? Molti di questi ora si sono riciclati in altre liste civiche. Non faccio i loro nomi per rispetto a noi stessi. Sono approdati in altri lidi perché non è facile fare politica come la facciamo noi. Sul nostro treno si studia, si discute, si litiga anche. E soprattutto non c'è un uomo solo al comando che tutto può e tutto decide. È la partecipazione che fa la differenza e la voglia di riappropriarsi del nostro futuro. Ma io non voglio parlare solo delle cose negative, perché altrimenti sembrerebbe che questo viaggio sia stata una discesa agli inferi. Invece non lo è stato, perché noi durante questo viaggio abbiamo incontrato tante belle persone, risorse inestimabili per questo paese. Hanno condiviso con noi un tratto di strada i contadini, i contadini di cui nessuno parla, ma loro parlano e come se lo fanno. Ci hanno raccontato di come si sono viste espropriare la loro terra per edificarla a centrale di Cerano. Cioè ci hanno raccontato di quando la politica ha deciso di scegliere l'industria, abbandonando la vocazione agricola di questa terra e di tutta la sua filiera. Abbiamo visto nei loro occhi la nostra stessa rabbia e la nostra stessa voglia di riscatto e non certo la rassegnazione. Durante il viaggio si sono avvicinate in punta di piedi persone che hanno messo al nostro servizio la loro professionalità in modo disinteressato. Persone che ci hanno insegnato a sapere individuare le opportunità perse e nascoste a noi cittadini dietro tecnicismi burocratici. Abbiamo viaggiato con musicisti che hanno fatto la storia del paese e che ci hanno aiutato a ricostruire l'orgoglio di appartenere a questa comunità. Abbiamo viaggiato nella storia gloriosa e sconosciuta ai più di San Pietro, grazie a ricercatori che hanno fatto del riscatto culturale di San Pietro una ragione di vita. E poi il comitato di garanzia che è stato la locomotiva che ha spinto questo treno e gli attivisti che, con il loro entusiasmo, lo hanno alimentato come un carburante. Tutti loro sono stati il motore pulsante di questo viaggio. Senza di loro, senza il loro sostegno e incoraggiamento nei momenti difficili, non saremmo arrivati fin qua. Durante il viaggio non ci siamo limitati a guardare fuori dal finestrino con sguardo perso, ma tutte le storie sono entrate nella nostra vita, tanto che per noi questa campagna elettorale ha segnato un prima e un dopo. Quello che siamo oggi è totalmente diverso da ciò che eravamo ieri. Perché non possiamo, come ho già detto prima, non arrabbiarci di fronte alle vergogne di questo Paese? Non possiamo essere indifferenti? Perché essere innocenti, non avere alcuna responsabilità, non ci assolve. Sapere la verità ci dà rabbia, ma ci obbliga anche ad agire. Non posso infatti negare la rabbia di sapere, la rabbia di sapere che ci sono persone che stanno morendo e non possono essere sepolte in quelle che avrebbero dovuto essere le loro tombe. La rabbia di sapere che noi per anni abbiamo pagato le tasse e che il nostro denaro è finito nel buco nero di fiscalità locale. La rabbia di non avere nessun centro aggregativo per i giovani e di non avere più una biblioteca. La rabbia di non avere impianti sportivi. La rabbia di sapere come è stato svenduto il diritto alla salute. La rabbia di sapere che questa è stata una terra di conquista, ora di questo, ora di quel partito, e che nella conquista c'è stato chi, una minoranza, ha proliferato e si è arricchito con le clientele e chi, come tutti noi, sta pagando il prezzo per mantenerle. E ora che ci hanno lasciato solo le magerie, perché continuano anche sotto mentite spoglie a ripresentarsi? Beh, parafrasando Pasolini, io lo so, ma non ho le prove. Ma io so perché noi siamo qui. E noi siamo qui per cambiarlo finalmente questo paese, per restituirli la dignità che merita e per farlo ripartire come un treno. Ho scelto la metafora del treno perché il treno è passato e futuro allo stesso tempo e San Pietro ripartirà solo se prima farà i conti con il suo passato e poi sceglierà di voltare pagina e di guardare con speranza al futuro. Sta passando il treno del cambiamento e voi potete con il vostro voto il 10 giugno salirvi a bordo ed essere protagonisti della San Pietro che sarà. Buon viaggio e buon voto a tutti.